Una maxistruttura di accoglienza per i chiedenti asino nel teatro dell'ex collegio delle suori di Maria Bambina del Belvedere a Crespano nel comune di Pieve del Grapp. Dopo il tentativo arenato nel 2016 di ricavare un hub per 98 migranti nell'ex polveriera di Volpago del Montello, di proprietà del Demanio, ipotesi contro la quale si erano sollevati in massa i comuni montelliani e la lunga lista di privati che si erano proposti per riconvertire immobili propri, vedi Borgottesonna, Soller, tentativi anch'essi naufragati per la ferma opposizione di amministrazioni locali e residenti, la prefettura ha ora messo gli occhi su un altro immobile, questa volta di proprietà di una congregazione religiosa, le suori di Maria Bambina, che nell'ex collegio di Crespano hanno a disposizione l'ampio teatro, in cui potrebbero starci centinaia di persone trattandosi di un complesso di 10.000 metri quadrati, ben più vasto dell'ex caserma serena di Dosson. Va da sé che Crespano non è né Treviso né Oderzo, dove si trova l'altro maxi hub della marca, l'ex caserma Zanusso. È una zona meno popolosa, molto più isolata, decentrata rispetto al territorio provinciale, incastonata, com'è, alla confluenza tra Treviso, Vicenza e Belluno, che riproporrebbe il tema della mancanza di servizi a disposizione di eventuali ospiti, soprattutto se molto numerosi, ma che alleggerirebbe la pressione sull'ex Serena ed ex Zanusso. Nella prima, in particolare, il sindaco Mario Conte non vuole tornare a raggiungere i numeri degli scorsi mesi, 700 i migranti ospitati nelle fasi critiche degli sbarchi sulle coste italiane. Istanza questa portata al ministro Matteo Piantedosi nelle scorse settimane, con il risultato che poco meno di 300 migranti sono stati trasferiti altrove, riportando le presenze a Dosson a poco più di 400. Ma con la primavera gli arrivi riprenderanno massicciamente e Crespano dovrebbe servire ad allentare la pressione fisica e politica sulle altre strutture.